La Sala Stampa Vaticana Il programma ufficiale del viaggio che il Pontefice compirà dal 24 al 26 maggio che toccherà Amman in Giordania, Betlemme e Gerusalemme. Sentiamo. Mancano ormai due mesi al viaggio apostolico che Papa Francesco compirà in Terra Santa dal 24 al 26 maggio. La Sala Stampa Vaticana ha pubblicato il programma ufficiale del pellegrinaggio che partirà dalla Giordania dove sabato 24 maggio si terrà la cerimonia di benvenuto nel palazzo reale di Amman e la visita ai reali. Poi la messa all'International Stadium della città, l'unico evento pubblico in Giordania. Il Papa visiterà anche il sito del battesimo di Gesù a Betania oltre il Giordano e nella Chiesa Latina incontrerà i rifugiati siriani e i giovani disabili. Domenica 25 maggio l'arrivo a Betlemme, nei territori palestinesi. Qui si terrà la cerimonia di benvenuto nel palazzo presidenziale e la visita al presidente Abbas. Il pontefice celebrerà la messa e la preghiera del regina Celi nella piazza della Mangiatoia. Pranzerà poi con un gruppo di famiglie palestinesi. Subito dopo è prevista la visita privata alla Grotta della Natività, quindi il saluto ai bambini dei campi profughi. Il Papa si trasferirà poi a Tel Aviv, in Israele, da dove si sposterà alla volta di Gerusalemme. Qui, nella sede della Delegazione Apostolica, l'incontro privato con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, e la firma di una dichiarazione congiunta. Poi, nella Basilica del Santo Sepolcro, l'atteso incontro ecumenico in occasione del cinquantesimo anniversario dell'abbraccio tra Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora. Lunedì 26 maggio, dopo la visita al Gran Mufti di Gerusalemme e quella al Muro del Pianto, il Papa deporrà dei fiori al Monte Erz e visiterà il Memoriale dello Yad Vashem, quindi la visita ai due Gran Rabbini di Israele e quella al Presidente Shimon Peres. Nel Notre Dame Jerusalem Center si terrà l'udienza privata al Premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nell'edificio antistante la Chiesa Ortodossa sul Monte degli Ulivi si terrà una seconda visita privata al Patriarca Bartolomeo I, seguita dall'incontro con i religiosi nella Chiesa del Gezzemani. Poi, nella Sala del Cenacolo, la Messa con gli Ordinari di Terra Santa, momento che concluderà la tre giorni del Papa. La celebrazione del 26 maggio nella Sala del Cenacolo è un'eccezione ma non una novità assoluta. In nessun modo può essere intesa come un gesto distensivo israeliano tale da far pensare ad una restituzione del Cenacolo alla Chiesa. Lo afferma l'Agenzia Siri, il custode di Terra Santa, padre Pizzaballa, commentando il programma del prossimo viaggio di Papa Francesco. Sul Cenacolo, spiega il custode, c'è già un accordo di principio con il governo, non si parla di restituzioni. Inutile caricare questa celebrazione di significati che non ci sono, tanto più che questi ci provocherebbero problemi con gli ebrei religiosi e con gli stessi musulmani. Per avere fede qui bisogna pagarne il prezzo, avremo incoraggiamento dal Santo Padre. Così il Patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Fuad Tual, commenta la prossima visita di Papa Francesco in un'intervista a Radio Vaticana. Sentiamo. Tocca a noi saper approfittare al massimo questa bella voce profetica. Un padre che viene a pregare per noi e con noi, un padre che ama la preghiera, che ama la pace, che ama l'unità dei cristiani, che ama il dialogo, verrà, speriamo, a sottolineare questi valori. È il Patriarca latino di Gerusalemme, Monsignor Fuad Tual, a farsi portavoce in un'intervista a Radio Vaticana dell'attesa del popolo di Terra Santa per la visita apostolica di Papa Francesco. I cristiani, in particolar modo, vedono in questo viaggio un forte segno di speranza. Tutto il Medio Oriente soffre, speriamo, siamo certi che il Santo Padre ci darà una parola di incoraggiamento per confermarci in questa fede che costa la fede qui, per avere fede qui uno deve pagare il prezzo. Non perdiamo mai la speranza, il Signore ci ama e ci incoraggia. Ma anche nelle altre comunità, quella ebraica e quella musulmana, l'attesa è grande. Per fortuna tutti pensano che il Santo Padre è amico loro, ciascuno da parte sua e va da sé che qualsiasi discorso, qualsiasi parola per più giustizia, per più dignità, per più collaborazione indirettamente avrà una dimensione politica. Fortemente voluto dal Santo Padre, l'incontro con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I e con gli altri rappresentanti delle Chiese di Terra Santa, che avrà un profondo significato ecumenico. Un nuovo slancio, un nuovo appello, non vedo invito a questa comunione, a questa unità dei cristiani. Mi ricordo nel 64 c'era un entusiasmo grande per tutti i cristiani per questo movimento ecumenico. Abbiamo fatto progresso, però siamo rimasti separati. C'è una comunione, c'è una collaborazione. Però la comunione risulta completa, secondo il desiderio del Signore Gesù non è fatta ancora. E in riferimento allo sciopero dei dipendenti del Ministero degli Esteri israeliano, padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana, interpellato dai giornalisti, ha detto che la preparazione del viaggio sta continuando come previsto. Si è consapevoli che in Israele, ha affermato padre Lombardi, vi è una situazione di tensione sindacale, ma si auspica che si possano riprendere al più presto i contatti formali con le autorità competenti per l'adeguata preparazione della visita del Papa. Giovani, Pace e Terra Santa, è stato lanciato un nuovo sito per accompagnare nella preghiera il viaggio di Papa Francesco. Vediamo. Si chiama terrasanctapax.org ed è un nuovo sito internet interamente dedicato al percorso di pace per la Terra Santa. Un cammino di preghiera e raccoglimento per i prossimi mesi, con l'obiettivo di preparare ed accompagnare la visita di Papa Francesco nella Terra di Gesù, prevista dal 24 al 26 maggio. A promuovere il portale web sono alcune realtà giovanili cattoliche, animatrici della giornata internazionale di intercessione per la pace in Terra Santa, che si svolge ogni anno nell'ultima domenica di gennaio. L'ultima edizione, svoltasi il 26 gennaio scorso, ha visto l'adesione di oltre 5.000 città in tutto il mondo. E con questo senso di gratitudine e di accompagnamento, spiega nella presentazione Don Francesco De Ruvo, tra i promotori dell'iniziativa, che vogliamo farci vicini, preparandoci a questo importante pellegrinaggio e chiedendo nuovamente il dono della pace per la Terra Santa e per il mondo intero. Il cammino propone tre giorni di preghiera, da ripetersi a marzo, aprile e maggio, il 24, il 25 e il 26 di ogni mese. Il primo giorno è dedicato al digiuno, il secondo all'adorazione. Il terzo è il giorno dell'unità, in cui fare visita ad un parente o ad un amico ammalato, in carcere o a casa, e da dedicare alla preghiera per l'unità, la riconciliazione e la pace. Nel sito è scaricabile un sussedio di preghiera, disponibile in nove lingue, arabo, ebraico, inglese, francese, italiano, polacco, spagnolo, portoghese e tedesco. Disponibili anche articoli d'approfondimenti sulla situazione della Terra Santa, sui percorsi di pace e sulla futura visita del Pontefice. Il portale mette a disposizione numerosi link a siti dedicati, come quello del Patriarcato Latino di Gerusalemme o della custodia francescana di Terra Santa. È possibile seguire gli aggiornamenti anche attraverso le pagine Facebook e Twitter del progetto. Guardiamo a lei come esempio per mantenere la speranza. Sono le parole con cui l'ambasciatore di Palestina presso la Santa Sede, Issa Cassisiea, ha concluso il suo messaggio al Santo Padre in occasione del primo anniversario del suo pontificato. Una figura, quella di Bergoglio, che il popolo palestinese vede come un padre premuroso ed affettuoso, scrive il diplomatico, un leader di pace e giustizia ed un principe dei poveri. Sottolineando gli sforzi del presidente palestinese Mahmoud Abbas per la buona riuscita del prossimo pellegrinaggio del Pontefice in Terra Santa, l'ambasciatore esprime la speranza che il viaggio rafforzi i legami perché un giorno non lontano la Palestina possa essere un luogo attraverso cui la Santa Sede possa accedere nel Medio Oriente in tutto il mondo arabo. Grande l'attesa della popolazione, ci stiamo organizzando, scrive l'ambasciatore, perché anche migliaia di palestinesi cristiani della Galilea possano partecipare alla messa di Betlemme. E questo è tutto per questa edizione, vi ricordo gli aggiornamenti quotidiani sul blog dedicato alla Terra Santa sul nostro sito www.tsdtv.it. L'appuntamento con la Terra Santa al Medio Oriente torna la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Grazie.